Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Allora, è il terzo video di oggi. Vi avevo promesso l'analisi della partita, ma direi che possiamo tornarci sopra anche domani, con calma, perché comunque poi la Juventus giocherà quasi alla fine della settimana contro il Monza. Giochiamo domenica 29 alle ore 15 e quindi abbiamo la possibilità di andare a sezionare anche, se vogliamo, diversi momenti della partita per capire che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, ovviamente oltre ai macroerrori dove abbiamo poi preso gol, dove abbiamo pagato principalmente, quindi direi che possiamo andare con un po' più di calma. Ci sono invece delle parole molto importanti pronunciate da Abodi, che è il ministro dello sport, e non solo, perché dobbiamo anche commentare le parole ieri sera di Scanavino, che è l'amministratore delegato nuovo della Juventus, rilasciate i microfoni di Dazzon, non di Sky, di Dazzon. Cosa dice Abodi? Il ministro dello sport, attendiamo le motivazioni per capire se siamo di fronte a pratiche di una sola società o di fronte ad un sistema più generale. Per me, per questo, bisogna aspettare e leggere le motivazioni che hanno portato a questi punti di penalizzazione della Juventus. L'importante, ovviamente, è che non diventi una sorta di derby, di sfida tra i tifosi, in cui si va a difendere soltanto l'operato della propria società e della propria squadra, ma se ci sono delle irregolarità, vanno affrontate. Io credo che sia molto giusto e corretto quello che ha pronunciato il ministro dello sport, che è tra l'altro un po' quello che dal giorno zero, dal momento zero, da quando sono effettivamente arrivati questi 15 punti di penalizzazione, continuo a ripetervi. A me non piace dire che alla Juventus devono togliere assolutamente questi punti di penalizzazione. Non mi piace dirlo per un motivo. Non abbiamo ancora letto le motivazioni e, sinceramente, io non ne ho le competenze, non ho nemmeno la possibilità di dire che non è giusto, è giusto, è sbagliato. A me è sembrato molto, molto grande come penalizzazione, anche perché comunque l'accusa ne chiedeva nove e quindi non c'erano precedenti. Ma non sono qui a dirvi che la Juventus debba vedersi annullata questa sentenza, perché se ha sbagliato è giusto che paghi. Il punto è come facciamo a capire se ha sbagliato, ma soprattutto come facciamo a renderla una cosa equa, perché il ministro dello sport dice vediamo se c'è un sistema più grande, però per quello che mi è parso di capire, diciamo così, la Juventus è stata incastrata dalle intercettazioni, dove nelle intercettazioni i dirigenti della Juventus ammettevano di fare delle valutazioni più gonfiate del valore dei giocatori rispetto a quelle reali. Quindi la domanda che mi sorge spontanea, ed è anche un punto che uscirà in un video che ho registrato con Sequels, dove lui mi faceva delle domande abbastanza anche scomode, dove mi sono anche un po' alterato, credo che uscirà o domani o dopodomani sul suo canale, o magari lo sta pubblicando proprio in questo momento, quindi tenete magari monitorato anche il suo canale. Però è proprio qui il punto, cioè la Procura di Torino teneva sotto controllo i cellulari, le mail dei dirigenti della Juventus da tempo, e quindi sono riusciti ad avere delle intercettazioni, ricostruire delle intercettazioni nel giro di un anno, due anni. Quindi o tutti sono stati tenuti sotto controllo e quindi abbiamo la possibilità di avere gli stessi elementi per ricostruire qualcosa anche sulle altre squadre, dove magari sono stati fatti gli stessi discorsi, o magari no, ed è proprio questo il punto, ma se non esistono nemmeno queste intercettazioni, allora come facciamo? Significa che magari questi discorsi sono stati fatti, magari queste operazioni non proprio idonee e logiche sono state fatte anche da altre proprietà, da altre dirigenze, da altre squadre, e non lo sapremo mai? Non lo so, vediamo, io torno a dire, lo so che mi sto tirando un po' di ire anche dicendo queste cose, ma io ho fiducia, io ho fiducia nella giustizia, io spero che questo possa essere l'apertura del vaso di Pandora, io spero che Juventus è colpevole, si becca 15 punti, benissimo, allora andiamo nel dettaglio, andiamo a vedere se ci sono altre intercettazioni, se si muove alle procure, se ci sono altre mail, se ci sono altri elementi che possano fare in modo che vengano puniti anche gli altri, non che vengano tolti i punti di penalizzazione da Juve, perché se la Juve ha sbagliato, se queste cose non si possono fare, se nel regolamento e tutte le cose che noi non siamo in grado di dire, perché siamo tifosi, non abbiamo la possibilità di leggere tutte le carte o magari di capire tutto quello che sta accadendo, a me va benissimo che mi diano 15 punti, però voglio che tante altre operazioni sulla stessa riga di quelle contestate alla Juventus vengano classificate allo stesso modo, però qua c'è un cortocircuito, riusciremo ad arrivarci soltanto tramite delle intercettazioni, dove per forza di cose i dirigenti devono ammettere di sapere di fare dei valori più grandi, questo è un po' il cortocircuito, perché sembra quasi che vada bene farle, però se poi ti beccano e ti sentono dire che il valore era gonfiato, allora non va più bene, perché stai cercando di manipolare il mercato, stai cercando di gonfiare, mettere a posto, sistemare le cose, magari l'hai sempre fatto in buona fede, in cattiva fede, non lo sai, quindi sembra un attimino una situazione molto complessa, però io ribadisco, io ho fiducia nella giustizia, se toglieranno i 15 punti di penalizzazione alla Juve saranno meritati, se confermeranno saranno meritati, se apriranno altri casi saranno meritati i punti di penalizzazione alle altre, se non apriranno niente, sarà solo la Juve, benissimo, ce lo faremo andare bene, io credo anche che a un certo punto sia necessario accettare quello che è, perché magari la Juventus è stata l'unica squadra in Italia a sbagliare e a fare male questa pratica legata ai bilanci, io, personale, opinione mia, ritengo che non sia vera questa cosa, e non sono nemmeno qui a dirvi che tutte le squadre di Serie A invece l'hanno fatto, per dire il Milan, mi viene da dire, è una squadra che negli ultimi 3-4 anni di plus valenze non ne ha fatte, non ne ha avuto bisogno, invece vengono in mente magari squadre come l'Inter e il Napoli che ne hanno fatte, o squadre minori magari come il Genoa che era in B, che era comunque indagata anche per la riapertura in questo caso, che le hanno fatte, però se non ci sono intercettazioni allora è un altro discorso, quindi vediamo che cosa succede, è un argomento molto delicato, molto spinoso, ma non sono qui a dirvi che dato che è la Juve debba per forza essere pulita, no? Può essere che la Juventus abbia sbagliato e quindi pagheranno i dirigenti, pagherà la Juventus perché chi sbaglia paga, questa è un po' la mia lettura. Secondo me però, ampliando un po' il raggio e trovando, non so come si possa dire, spiando, perché se questa è la variabile che fa la differenza, spiando, tirando fuori intercettazioni anche degli altri, poi c'è da chiedersi perché allora. Juventus è l'unica squadra di Serie A tenuta sott'occhio, invece le altre no. No, perché questa è una bella domanda, però va bene, andiamo avanti, facciamo finta che va tutto bene. Scanavino invece, amministratore delegato da Juventus, ha detto, riteniamo questa sentenza assolutamente ingiusta e iniqua. E già qua ci discostiamo ovviamente per forza di cose dal mio pensiero, perché loro devono fare in modo di far valere una linea difensiva molto più forte rispetto alla libertà di opinione, di pensiero, di ragionamento e di parola che ho io. Dice, nei prossimi giorni aspettiamo le motivazioni, che è un po' quello che ha detto Abodi, che dovrebbero arrivare entro la fine del mese, quindi una decina di giorni, ma sicuramente faremo appello al CONI per sostenere le nostre posizioni, che sono molto solide e chiare, e che erano già state accettate con successo nel percorso ordinario. Crediamo di avere delle altre e continueremo su questo percorso, che questa sentenza ingiusta non lo crediamo solo noi della Juventus e i nostri tifosi. Quindi questa è una linea difensiva molto forte in cui la D della Juventus sta cercando di sottolineare l'innocenza della Juve, sta mettendo la Juventus in una posizione per fare in modo che venga innalzata, che venga riconosciuta come strana ai fatti. Io ribadisco, non ve lo posso dire, non lo posso sapere, non ne ho le competenze, devo soltanto aspettare di leggere le motivazioni, aspettare di vedere questo ricorso, se farà appunto, se annullerà la sentenza o se la confermerà. È ovvio che, da tifoso della Juventus e davanti del calcio, di fronte a tutte queste situazioni, un po', un po', sento la mia passione uccisa. Perché sono motivazioni che comunque spiego anche nel video con Simone. Allora magari verranno fuori tra due anni le intercettazioni di altre squadre, se verranno fuori, magari tra un anno, quindi questo campionato avrà dei punti di penalizzazione per la Juve, poi magari il prossimo avrà punti di penalizzazione per un'altra. E poi alcune squadre a campionato in corso, alcune squadre a campionato finito, alcune squadre tra un anno, tra due anni, per campionati di tre anni fa, di due anni fa, di quest'anno. Secondo me è necessaria una riforma, dato che abbiamo aperto il vaso di Pandora, abbiamo creato un precedente, Juventus è stata penalizzata, benissimo. Allora cerchiamo di fare in modo che tutte le squadre smettano di utilizzare questo metodo per sanare i bilanci. Se non va bene, se è una cosa che sia fatta e non va più bene, cerchiamo di annullarlo. Perché magari tanti altri dirigenti che non sono stati intercettati, che non hanno ammesso di dover fare le plusvalenze per sistemare i bilanci, l'hanno fatto e sono colpevoli tanto quanto quelli della Juve che invece hanno la colpa in più di essere stati intercettati. E gli altri l'hanno fatta franca e non lo sapremo mai. Quindi cerchiamo di mettere un regolamento, cerchiamo di fare una regola. Cerchiamo di fare un passo avanti, cerchiamo di uscire da questa situazione. Dato che non si può fare, non è che se uno non si fa beccare allora è più furbo e quindi va tutto bene. Non fa parte né della vita né dello sport e non è nemmeno un insegnamento di livello. Scaramino aggiunge, dobbiamo essere pronti a tutto. Purtroppo questa sentenza ci ha insegnato che è inutile essere ottimisti o pessimisti. Ma dovremmo essere preparati pronti e determinati anche a questa situazione, che non ci aspettavamo potesse avere queste dimensioni, che era qualcosa che stava soltanto nelle potenziali opzioni. È un po' quello che dicevo all'inizio, io non mi aspettavo questa mano dura da parte della Corte, invece sono andati giù pesanti, aumentando addirittura i punti che l'accusa aveva chiesto. Abbiamo un consiglio di persone estremamente esperte, un pool di avvocati capaci e porteremo avanti con grandissima determinazione gli elementi a sostegno delle nostre ragioni. E io spero vivamente che Juventus possa mettere in campo tutta la propria forza, questo pool di avvocati, le proprie motivazioni, la propria difesa e che alla fine vengano annullati questi punti. Perché da tifoso io ho questa speranza, ovviamente la speranza più grande in realtà è che se si è sbagliato questi punti vengano confermati, ma che se hanno sbagliato anche altri vengano puniti anche gli altri. Poi in base alla gravità del fatto, in base al numero di operazioni coinvolte, in base a quello che emergerà, punti di penalizzazione differenti. Perché io sono sempre di quella che ha sbagliato, è giusto che paghi. Non perché ci chiamiamo Juventus, tipo la Juventus, non dobbiamo pagare anche se abbiamo sbagliato. Se abbiamo sbagliato dobbiamo pagare. Se i vecchi dirigenti, Agnelli, Paratici, Nedved, Cherubini, Arrivabene, hanno fatto cose che non dovevano fare, è giusto che paghino dal punto di vista penale ed è giusto che Juventus paghi dal punto di vista sportivo. Questa è la mia posizione. So che non tutti la pensano così, so che tanti sono semplicemente arrabbiati con la giustizia, io non la penso in questo modo, io sono dell'idea che chi ha sbagliato debba pagare. Concludo dicendo che Cherubini in questo momento ha inibito, lo sappiamo, e che ieri Scanavino ha confermato come ora la parte gestionale dell'area sportiva si è in mano a Calvo che era tornato alla Juventus, ricorderete, qualche tempo fa, dopo essere andato via dalla Juve, aveva già lavorato a Juve anni fa, qualche esperienza, Roma e Barcellona, e ora invece è tornato alla Juve e in questo momento si è preso a mano l'area sportiva. Quindi queste sono un po' le parole che volevo commentare, ci tenevo perché erano parole importanti sia da parte dell'amministratore delegato della Juventus, quindi quello che ha preso la figura, tra virgolette, di Arriva Bene, quello che commenterà, che vedremo sempre più spesso davanti ai microfoni, aperta e chiusa parentesi a quanto pare tifoso del Torino, però ovviamente a livello professionale queste cose si fa un passo avanti, e anche il ministro dello sport perché non ha detto parole banali, ha detto parole siccome molto molto giuste e che fanno anche capire che probabilmente qualcosa si sta muovendo non solo lato Juve ma lato serie A, lato calcio in Italia. Vediamo perché io dal momento esatto in cui ho visto questa penalizzazione ho pensato che potesse venirne fuori qualcosa di più grande perché secondo me nel momento in cui tocchi una squadra per un argomento del genere o annulli tutto e finisce per tutti a Tarlucevino o per forza di cose devi andare nel dettaglio anche con altri rovinando purtroppo delle stagioni sportive e magari anche gli anni prossimi andando ad alterare più campionate in un solo uno.